Il Tempio della Legge di Gela dovrà essere abbattuto e il motivo è che abusivo. Lunedì scorso sarebbe infatti arrivata l'ordinanza da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che prevede la demolizione dell'edificio inaugurato appena cinque anni fa. La vicenda era iniziata nel 2007. La Giunta Comunale, guidata da Rosario Crocetta, aveva individuato un'area accanto alla Raffineria dell'Eni, di proprietà delle famiglie Calafiore e Sciascia, molto note in città. Dopo un primo esproprio avviato dal Comune, era stato riconosciuto un indennizzo, contestato però dai privati. Sono stati proprio loro a ricorrere al Tare a vincere in primo e secondo grado, perché le procedure di esproprio fatte dall'amministrazione sarebbero risultate illegittime. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva poi stabilito un risarcimento ai privati e nominato un commissario. Stimati 7 milioni di risarcimento, 3 milioni e mezzo per il valore del terreno e altri 3 milioni e mezzo per il danno subito da un'occupazione illegittima. Non abbastanza, i privati avrebbero poi chiesto indietro il terreno. I giudici amministrativi, se da un lato invitano a ridurre la quantificazione del risarcimento, dall'altro indicano tre strade. Quella di un accordo che appare impossibile, quella di un nuovo esproprio che avrebbe comunque dei costi almeno 3 milioni, soldi che il Comune non ha, o la demolizione. La decisione dovrà arrivare entro il 2017. Le famiglie potrebbero rientrare in possesso dei terreni e abbattere il Palazzo di Giustizia per poi farsi risarcire le spese dal Comune. Un danno che rischia di costare caro alle già disastrate casse del Comune e del Ministero.